La poesia che reciterà, credo sia sua, dirà lui il titolo e gli spiegherà qual è lo spirito della sua proposizione. Grazie, io innanzitutto ringrazio per il cortese invito che ogni anno mi fate, anche se è un paio di anni che io manco a questo appuntamento nel mese di dicembre. Il tempo, il pet di vola ed è proprio al tempo che io vorrei dedicare una poesia questa sera e mai come nel mese di dicembre, quando l'anno sta per finire, un pochettino, vediamo questo trascorrere del tempo in maniera così veloce e ogni anno se ne giunge un nuovo. Il titolo è proprio Il Tempo. Il Tempo è il curato di carriera, il permaneo come un momento, il gioca mia ma sui la pena, e l'asso sento un caio sinistro. Il sento un po' il carri e accorga drenne un rischio, che fa per scusare i pei e la nebbia in cala vista. Il Tempo è morta una pezza che si intusca un garantone, ma la porta via la bellezza sia l'uomo sia il don. Né la ferma né la tucca, ma la perfora l'algola via, Né un bumbolino che torna in buca, molto buono, talcom via mia. Certi volte non può sapere, ma non era che sa fermo, e invece, caro a Dio, l'urloge che si incantò. Se l'epoca vuoste mai, se non lo fa pagura, se si lancio più un matale, ti ne dure, ti incontra la dura. Il Tempo è la vita, un'urloge che si tira su, un di oggi né una vita, forse per la storia di lui. Grazie. Anche a voi.